Ma non è così grosso. Sì, quanto non mi fa. I'm going to eat. Semmi non dici. Ehm, mi fai mandare un'altra. Oh, è stricchiatta. Ehm, sa già che è la sua borsa. This is your bag. Ah, that's a bag for you, Shoshan. Shoshan, come is it the camera? Hi, Shoshan. Hi, Shoshan. Ah, he's not looking. I'm going to be good. Yes, you're coming. I'm going to take a photo.